Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo, dunque fra gli attori del turismo dolomitico ci sono anche i rifugisti, ovvero coloro che garantiscono l'ospitalità in estate chi va in montagna sui sentieri, d'inverno chi va sulle piste da sci o a camminare piuttosto che nelle Dolomiti. Sulle piste da sci c'è un rifugio in particolare con una storia anche molto particolare che vi raccontiamo in questa nostra interessante chiacchierata con Massimo Manfroy, titolare del Rifugio Larisei. Ciao Massimo, benvenuto nei nostri studi. Ciao Claudio e saluto a tutti gli spettatori. Per inquadrare un po' il Rifugio Larisei nel comprensorio della schiara San Pellegrino in comune di Falcade. Dunque raggiungibile con gli impianti risalita nella schiara ma anche è questa una delle caratteristiche che vi differenzia un pochettino. In molti ci vengono anche a piedi. Sì, si può raggiungere a piedi, si può raggiungere poi tramite servizio di motoslitta la sera, solo la sera perché poi dalle 5 in poi possiamo transitare per ragioni di sicurezza finché gli impianti sono aperti e appunto con l'asseggio via. Quindi abbiamo diversi modi per essere raggiunti diciamo. Chiaro, quindi il vostro orario diciamo così oltre l'apertura degli impianti di risalita prosegue quindi anche nel tempo e delle volte fino alla sera. Sì, allora noi diciamo che finiamo il servizio intorno alle 4 e mezzo 5, 4 e mezzo generalmente quando chiudono gli impianti, riprendiamo dalle 6 e mezzo circa non tutte le sere su prenotazioni ovviamente e finiamo intorno a mezzanotte, non tardissimo perché poi i gatti devono entrare all'opera e quindi... E poi il mattino dopo ricominciate. E noi poi ricominciamo quindi... Ecco, ci dicevi su prenotazione, ma nell'arco complessivo della stagione invernale per esempio circa quante aperture fate, serali su prenotazione per capire un po' i numeri e la portata anche di questo extra lavoro tra virgolette che fate anche la sera. Esatto, è un extra, allora facciamo ovviamente tutti i weekend, tutti i sabati e poi facciamo un'infrastimanale per dare l'opportunità anche alle aziende, quindi le cene di lavoro oppure i meeting tra amici, compagni eccetera che ci vogliono raggiungere del posto generalmente perché poi l'infrastimanale poi è dedicato più alla gente del posto, quindi una sciata con gli sci alpinismo oppure una ciaspolata oppure appunto con le motoslitte andate a ritorno. Ecco, una curiosità, c'è un approccio differente tra la clientela, tra virgolette, di passaggio che passa con gli sci e di conseguenza con gli impianti rispetto a quella che viene apposta da voi? Bellissima domanda, sì. C'è una differenza nel senso che allora lo sciatore, allora c'è il sciatore e il sciatore, diciamo c'è lo sciatore sportivo che quindi mangia velocemente poi va via, quindi anche lo straniero eccetera. Diciamo che abbiamo avuto un gran bel riscontro soprattutto negli ultimi anni di stranieri che vengono un po' da tutte le parti e quindi qui ringrazio tutto quello che è stato fatto anche a livello promozionale ovviamente e poi la schiarea nella quale noi siamo proprio nel mezzo quindi è una bella fortuna, mentre la sera la cosa è molto più conviviale, la gente è molto più rilassata tra virgolette quindi arriva, facciamo le cene sono molto più ampi e anche il menù è molto più ampio e quindi diciamo che il cliente è più rilassato tra virgolette la sera invece a mezzogiorno in più mordi e fuggi, alcuni sciatori come me invece fanno un po' più rilassato anche a mezzogiorno ma non siamo in tantissimi. Ma di grande qualità diciamo così. A livello di staff Massimo quante persone siete a lavorare all'Aresay e mi chiedo e ti chiedo soprattutto un solo turno oppure due per coprire tutte queste ore di lavoro insomma perché la giornata è lunga. La giornata è lunga e i turni di mezzogiorno sono più di due tante volte e quindi è bello impegnativo perché come ben sai Claudio e come ben sanno tanti diciamo che essendo veloce quindi arriva il primo turno poi si svuota poi arriva l'altro turno si va avanti fino alle due e mezza generalmente perché poi siamo molto vincolati all'orario di rientro per il personale. Quindi lo staff è composto da 10-11 persone fisse più poi chi chiamiamo a chiamata. Nei giorni intensi arriviamo a un bel numero anche a 16-17 persone compresi me e mia moglie e mio figlio che fortunatamente è in età per darci una mano. Quindi è un bel impegno però è un impegno che non grava diciamo Claudio perché poi la soddisfazione ripaga tutta la stanchezza perché l'ambiente di lavoro diciamo dove lavori intorno quando ti guardi intorno. È stato il buon Fabio che tu conosci che è uno dei cuochi che salutiamo. Ciao Fabio. Che una volta mi ha fatto emozionare Fabio è di Pisa come ben sai e sai io ero preoccupato perché sai venendo da Pisa dopo una giornata bella intensa gli ho detto Fabio sei stanco sei stressato? Fabio mi ha risposto sì sono stanco e stressato ma quando mi guardo intorno passa tutto Massimo. Quindi è da pelle d'oca. Anche perché Fabio ha tanti anni ma volevo farti una domanda. Il vostro staff fate fatica a trovare personale stagionale oppure siete un gruppo consolidato? Allora il gruppo fortunatamente è consolidato Claudio. Io penso di essere uno dei pochissimi fortunati perché sentendo in giro si fa molta fatica. Purtroppo forse non è non passa benissimo il concetto del lavoro stagionale sulle piste e comunque sia diciamo gli operatori delle piste sia nei rifugi perché è vero che è faticoso è vero che è impegnativo è vero che la domenica lavori è anche vero che ripaga molto ripaga molto in termini di soddisfazione spero anche economico ma questo te lo devono dire i dipendenti e quindi è facile poi sai anche nelle difficoltà che il gruppo si consolidi quindi non è un invito però diciamo che una prova anche ai ragazzi più giovani io la farei se io fosse avessi vent'anni e dovessi tornare indietro Claudio ritornerei a fare il mio lavoro e quello che ho fatto. Anche come esperienza di vita. Certo. Allora chiedo ci avviciniamo verso il termine della stagione le ultime navigate garantiscono l'apertura prolungata degli impianti si andrà quindi avanti ma che veniamo a uno degli aspetti più interessanti eh in molti propongono la eh tra virgolette classica festa di fine stagione no nella quale magari si mette un po' di musica eh si fa un brindisi e arrivederci a fra qualche mese. Voi invece a Rifugio della Resa da qualche anno a questa parte avete eh diciamo così eh sperimentato una festa di fine stagione con la F maiuscola eh e quest'anno lo sarà ancora di più perché se lo scorso anno avete avuto dei DJ importanti piuttosto che uno scenografico arrivo a dire una copertura della corsa da un da un elicottero quest'anno Massimo ci vuoi anticipare l'appuntamento che sarà per e cosa sarà il titolo? Allora Claudio un bella anche questa è una gran bella domanda allora noi abbiamo fatto la festa di fine stagione tre anni fa con Morgan che tu ben conosci è Paolo Prosperi che è un ragazzo che comunque era impegnato anche lui nel nel mondo della televisione eccetera però impegnato nel mondo delle piste e anche e quindi abbiamo deciso di metterci un po' assieme per organizzare questa cosa questa cosa è andata bene questa festa è andata bene anche l'anno scorso appunto dove avevamo DJ Prezioso abbiamo avuto un gran bel riscontro e ci siamo trovati noi tre abbiamo detto perché no perché non possiamo provare a portare qualcosa di forse innovativo quindi è un festival sostanzialmente è un festival quindi con più ospiti tra i quali abbiamo svelato via social alcuni avremo i presentatori anche importanti perché abbiamo Massimiliano Sini che è il conduttore di linea bianca e di una mattina poi abbiamo la bravissima Camilla Ronchi che è presentatrice nostrana è a Falcadina quindi è un onore averla adesso abbiamo svelato la prima ospite che è Carolina Marquez che è la regina della disco anni 90 poi anche attuale perché poi ha fatto delle hit che riguardano l'inverno quindi lei ci doveva essere piano piano sveleremo gli altri ospiti che sono ancora un po' ospiti musicali musicali quindi un festival musicale è un festival musicale però ha una particolarità sul suggerimento di Mauro Vendruscolo che è il proprietario della schiarea San Pellegrino Falcade lui mi ha detto ma perché non uniamo anche lo sport no perché visto che siamo effettivamente in un'area sportiva abbiamo pensato di invitare degli ospiti sportivi sempre inerenti al periodo degli anni 90 quindi ok quindi ci saranno degli ospiti importanti anche sportivi i campioni degli anni 90 quindi relativi al mondo dello sci dell'inverno oppure anche di altri sport di tutti gli sport invernali più qualche altro sport diciamo lo infiliamo dentro no quindi avremo diversi sportivi anche lì non mi posso tanto certo perché se no mi pelano avremo tempo perché Save the Date questo è il titolo è in programma per inizio aprile vero? il programma per il 7 aprile inizierà il festival inizierà alle 10 e 30 e finirà alle 5 e 30 cioè con la chiusura degli impianti proprio appunto vogliamo tenere questo orario proprio per rispettare l'orario degli impianti per rispettare chi lavora sugli impianti perché dopo una stagione dura è giusto che festeggino un po' anche loro con noi a tal proposito Claudio lasciami dire una cosa molto importante è una cosa molto bella secondo me tramite promo Falcade come sai promo Falcade Dolomiti e tramite la bravissima Sara Battain che mi ha seguito è in programma anche il dopo il dopo diciamo l'after party ok quindi a Falcade quando quando tutta la gente scenderà eccetera troverà questo questo piccolo party piccolo spero grande con tutti gli operatori poi di Falcade quindi è una bellissima per proseguire quindi anche la giornata e condividere anche la chiusura della stagione con gli altri operatori si ha accolto un aspetto importante che non fate questo festival soltanto voi ma coinvolgete appunto impianti risalita promo Falcade per una festa del turismo quindi a 360 gradi è una festa veramente del turismo è un modo per è un altro modo per promuovere l'area per promuovere la schiarea di Falcade e modo per promuovere poi le attività commerciali come ben sai scuso che non mi dimentico assolutamente sai che noi invitiamo poi invitiamo nella nostra area i commercianti della Gordino che poi da l'ivan Bettini del caffè miniere da cicciolo perbacco da Lallo dal teo botti io li dico così perché poi si sappia quindi sono ognuno dal suo contributo l'insegna poi dell'amicizia anche dei saperi e dei saperi perché ognuno porterà un suo sapere particolare quindi ci sarà questo festival proprio l'insegna lasciami ricordare anche mio fratello perché sennò mi ammazza perché lui ha aperto anche lui quindi l'ho dovuto io ho lasciato libero campo a tutti chi vuole partecipare sia a monte che a valle quindi è una bella cosa perché tutti i commercianti sono liberamente invitati per mettere il loro stand quindi abbiamo appunto abbiamo in quota abbiamo Lallo e mio fratello che faranno gnocchi fritti e la carne è grigliata di Lallo che è spettacolare avremo ciccio e Bettini che danno la parte e il teo che danno la parte drink quindi abbiamo drink and food e poi avremo anche poi il nostro chiosco del rifugio Laresei quindi ce n'è per tutti assolutamente senti l'ultima nota e il ticket d'ingresso si può già acquistare come bisogna fare per accedere a questo servire importante il il ticket d'ingresso è in vendita online si trova in due formule c'è la formula del ticket per l'ingresso nell'area dove avremo anche l'area giochi per i bimbi anche questa bisogna dire viene viene costruita diciamo dai maestri di sci dalla scuola sci di falcade quindi è una bellissima cosa anche questa e poi quindi qui si ha l'accesso all'area comune diciamo l'area di tutti poi c'è un biglietto un po più importante diciamo che dà accesso all'area vip dove si potranno incontrare appunto i personaggi e gli ospiti e si avrà accesso anche a bevande e cibo gratuiti pagando questo tipo di biglietto quindi speriamo che complessivamente ma su un'ultimissima domanda quante persone vengono coinvolte nell'organizzazione è possibile quantificarne immagino già dei nomi che hai citato decine tra collaboratori diretti e chi ti dà una mano per il tutto diciamo che tutte le attività commerciali tra tutte le attività commerciali i nostri collaboratori poi chi i volontari che non dimentichiamo sono fondamentali dai pompieri alla croce verde a tutti quanti ai parcheggiatori eccetera vengono convolte direi quasi centinaia poi eh però vedo che quello che mi fa piacere Claudio è vedere che è una comunità che comunque quando c'è un evento si stringe intorno e fa e fa proprio comunità che è una cosa che la montagna per la montagna è fondamentale per il turismo è fondamentale perché poi si fa vedere il senso di comunità anche a chi viene da fuoco assolutamente si innamora ancora un po di più delle le tue parole sono state molto utili perché non abbiamo capito che non è un semplice festival di fine stagione di un rifugio ma il festival di una comunità nata grazie al rifugio l'area 6 e allora Massimo ti ringrazio ti auguro un buon proseguimento di lavoro e un grande successo per Save the Date grazie Claudio grazie mille grazie e a voi tutti grazie per la gentile visione e l'appuntamento alla prossima settimana con un altro numero di Dolomiti Turismo con un altro numero di Dolomiti Turismo Grazie a tutti